L'Università Neto senza pubblico, Agragas e Roccella si misurano per questa domenica. Trova palla, Catania, poi il tocco in avanti, cercare Meloni che arena per la traiettoria e mezzo. Un colpo di testa, la palla che viene mancata e poi è Vindigni su Catania. Lo scambio con Meloni, Meloni in aria, il tiro di poco a lato. Palla e mezzo, c'è un tentativo, poi Catania su Arena. C'è un pallone su Catania, ancora Catania, ha lo spazio per il tiro, poi il suo destro. Arena, va a recuperare la palla per l'Akragas, l'appoggio su Meloni. De Zai, ancora De Zai in aria, poi la conclusione con De Zai e la parata di Legro a taglie a Sarita. Si continua a giocare, attenzione, Roccella in aria, il tiro e la palla in calcio d'angolo, in avanti. Attenzione a Roccella, lo scambio con Odguè, palla e mezzo, colpo di testa, la palla alta. Arena, il tiro di Arena a lato, ci pensa poi Baiocco con Arena, che viene anticipato all'ultimo istante. Arena dalla bandierina, traiettore a mezzo e c'è il palo sul colpo di testa di Catania. Tresor, spalla la porta, cerca di entrare in aria, l'uno contro uno, poi mette a mezzo un pallone, attenzione. Non ci arriva Meloni, forse c'è un retropassaggio. De Zai, cerca di entrare in aria, lo scambio con Meloni, ancora Meloni, De Zai e c'è il fuorigioco. Arena, la battuta, l'area è spinta con i pugni del portiere Legrottaglie, Baiocco, Catania, ancora Catania, Catania al tiro sul corpo di un avversario. Blu, Criniti ancora, mette a mezzo un pallone, attenzione, c'è il colpo di testa di Dorato. Ancora Catania, attenzione, su Bonaffini, alza la palla, poi ancora un tentativo con Catania, c'è il tentativo con la parata con i piedi del portiere Legrottaglie. De Zai in aria, ancora il tiro del numero 7, Tresor, ancora dentice, traversone e mezzo. Rigore, rigore, riccio, rigore. C'è anche Criniti, e c'è la rete, e c'è la rete, al ventunesimo. Palla e mezzo, l'inviene il difensore di Occella. Ancora l'Akregas, comunque, mantiene il possesso. C'è un taglio con il tocco e la rete, il gol di Meloni. Meloni, al trentasesimo. Attenzione a questa incursione, è pericolosa. Palla e mezzo. Attenzione a questa incursione, la palla a lato. E proprio in questo istante l'arbitro fischia la fine 1-1 tra Acregas e Occella.